Bene amici, oggi vi porto sul canale la fototrappola Victor, modello da 20 megapixel. Il modello in questione ha un angolo di visuale da 130 gradi e un'impermeabilità che ne permette di posizionarla alle intemperie. Come illuminazione notturna montate luci led ad infrarossi non visibili ad occhio nudo. Ha tre sensori per non perdere neanche i più piccoli movimenti. Per alimentarla abbiamo bisogno di otto batterie formato AA, ma ne basterebbero anche quattro. Vanno bene anche batterie ricaricabili o un'alimentazione esterna da 6V 2A come un alimentatore o un pannello solare. All'interno della confezione abbiamo il libretto di istruzioni, un cavetto USB e tutto quello che serve per posizionarla. Come il comodissimo laccetto a cintura. E adesso portiamola in giardino per capire davvero come funziona. Bene siamo stati fortunati ed abbiamo piccato una bellissima ulpe, ve la lascio ammirare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.